Incominciamo con Restate a Leporano e con la presentazione di un bellissimo libro con l'autore ovviamente presente al castello Muscettola di Leporano, Fabio Zavattaro. Il libro si chiama Stile Bergoglio effetto Francesco. Zavattaro delinea la figura del Pontefice e tutta la portata innovativa di Francesco. Un stile davvero semplice sia quello del Pontefice e sia quello di Zavattaro che ci permette questo stile di vivere un mondo potremmo dire ovattato e fatato che è quello Vaticano. Ma non aggiungo altro attraverso le interviste e attraverso gli interventi dei presenti vi farete un'idea. Dunque una bellissima iniziativa culturale appunto che rientra nell'estate leporanese e nella sezione per così dire serate d'autore. Sindaco la rassegna estiva Restate a Leporano contempla momenti di cultura, serate d'autore e questa sera è stata veramente una serata alla grande con Fabio Zavattaro. Fare cultura con la C maiuscola ma anche attualità, vivere da vicino questa figura di un Pontefice certamente fuori dagli schemi. È importantissima serata, è importante anche la presenza di Fabio Zavattaro che è giornalista della RAI, vaticanista, è molto attento e conosce molto bene le realtà del Vaticano. Lui ci ha aperto una porta questa sera enorme, siamo entrati, ci ha fatto conoscere un po' un speccato dei vari papi che sono succeduti in questi anni ma soprattutto la figura di Papa Francesco, Papa Bergoglio. È importantissima per la nostra comunità, è importantissima la serata perché chiaramente ha portato al nostro cervello tanto tanto alimento, cibo per la mente che è quello della cultura, che è importantissima soprattutto in questo momento e in questo contesto. La dottoressa Iolanda Lotta, vice sindaco di Leporano, una serata questa in cui abbiamo vissuto, anzi stiamo vivendo, la semplicità di Papa Francesco attraverso il noto vaticanista Fabio Zavattaro. Sì, nella programmazione dell'estate leporanese abbiamo voluto inserire serate d'autore, questa che è una delle prime, abbiamo avuto l'onore di avere qui a Leporano il giornalista vaticanista Fabio Zavattaro che ci ha illustrato, diciamo, ci ha aperto le porte del Vaticano. Papa Francesco, Papa Francesco è un Papa rivoluzionario dove attraverso la sua semplicità, i suoi gesti e la sua concretezza riempie le piazze di credenti e di non credenti. Stile Bergoglio, effetto Francesco. La sua pubblicazione, la sua ultima fatica, quella di Fabio Zavattaro che questa sera qui a Leporano ha fatto luce, davvero ci ha illuminato circa la figura di Papa Francesco e non solo. Ci sono stati anche dei riferimenti ad altri suoi predecessori. Ecco, lei che ha avuto, che ha modo di vedere da vicino, di vivere da vicino il rapporto con i pontefici, cosa l'ha colpito in modo particolare di Papa Francesco? Beh, tante cose. Essenzialmente la scelta che lui fa di stare accanto alle persone, alle persone più semplici, alle persone sofferenti, ai malati. E' il Papa che ha una parola per tutti e non corre via. E questa è una cosa che la gente avverte. E' anche il Papa che fa delle scelte che in qualche modo mettono ansia in una realtà di Chiesa abituata a diversi modi di esprimersi. Francesco nella sua semplicità interroga tutti e questa è la vera novità di Papa Bergoglio. Monsignor Pasquale Morelli, parroco della parrocchia Maria Santissima Immacolata di Leporano. Attraverso Fabio Zavattaro ci siamo soffermati sulla figura di Papa Francesco, ma non solo. Vari aneddoti, vari particolari che hanno fatto piena luce sui vari successori appunto di Pietro sul Soglio Pontificio. Beh sì, in realtà questa sera c'è stato un excursus almeno negli ultimi 60 anni della storia della Chiesa a partire da Giovanni XXIII, il Concilio Vaticano II, il Pontificato di Paolo VI, di Giovanni Paolo II, Benedetto XVI per arrivare a Francesco. Si è visto come in realtà tutti questi germi di novità che noi cogliamo nel Pontificato di Papa Bergoglio effettivamente avevano già avuto i loro incipiti, i loro spunti già nei Pontificati precedenti che Papa Francesco ha soltanto colto e messo chiaramente in luce. È un Pontificato anche quello di Papa Francesco in piena evoluzione con il cammino che la Chiesa sta compiendo e che sono convinto che darà i suoi frutti a lunga scadenza. Senz'altro è un Pontificato innovativo, qualcuno l'ha definito anche con un termine particolare rivoluzionario ma è una rivoluzione buona, quella che pone al centro Gesù il rispetto per il dono del creato ma soprattutto la centralità dell'uomo, della persona, del povero che Papa Francesco ha rimesso in auge e che deve essere per tutta la Chiesa universale un punto di riferimento, la cultura dello scarto di cui tante volte lui ci ha parlato, di questa Chiesa in uscita vicina alla gente che sa sentire i bisogni del popolo e sa dare anche delle risposte qualificate a questi bisogni. Giuseppe Semeraro, noto organizzatore di eventi, che ha collaborato per la presenza qui a Leporano di Fabio Zavattaro. Ecco, le sue impressioni abbiamo vissuto, abbiamo visto quasi da vicino attraverso Fabio Zavattaro il mondo del Vaticano, quel mondo che ci sembra così lontano ma che Papa Francesco ha reso vicinissimo, ha umanizzato. Sì, Fabio Zavattaro ha tracciato un percorso straordinario stasera parlando degli ultimi 4-5 papi da Papa Giovanni Meditresimo a Papa Francesco, la continuità dell'azione pastorale del governo della Chiesa raccontandoci anche alcuni aneddoti che lui ha vissuto da protagonista, è stato il giornalista che ha accompagnato in tutti i viaggi apostolici sia Giovanni Paolo II che Benedetto XVI e negli ultimi anni che è Papa Francesco. Nicola Pastore che ha moderato la serata qui l'incontro con Fabio Zavattaro. Ecco Nicola, il tuo rapporto professionale con Fabio Zavattaro, hai menzionato la sua disponibilità alcuni anni fa era proprio in diretta, la capacità di Fabio Zavattaro di farci vivere da vicino cose più grandi di noi questo mondo che sembra sull'iperuraneo, quello del mondo Vaticano appunto. Sì, molto in alto, un mondo molto apparentemente distante da noi ma che di fatto va a caratterizzare la nostra quotidianità ovviamente per chi crede, per i credenti è un rapporto più diretto. Fabio Zavattaro, per me ogni volta che ho la possibilità di incontrarlo è una grande occasione l'hai detto tu, hai ascoltato questa sera una persona molto disponibile che attraverso le sue pubblicazioni va a condividere delle esperienze straordinarie che professionalmente ha vissuto e che poi va a condire anche con quella umanità che riesce ad esprimere anche attraverso dei racconti, delle rievocazioni di forte contenuto storico. Insomma una persona speciale, io sono contenta che l'amministrazione comunale abbia voluto includere all'interno del suo cartellone estivo anche questo momento intenso fatto di riflessione che d'estate nonostante le distrazioni varie non guasta, fa bene la salute mentale di tutti. Bene, è ora una fascia pubblicitaria, al rientro una nuova parte di Polifemo non cambiate canale, restate con noi.